Al momento chi ha recuperato sicuro è Galabino, poi direi che partirà con noi qualche dubbio, Dal Cruzo è pure affaticato, quindi vedremo un attimino più tardi quando facciamo la lista, però ripeto, il dubbio c'è su qualcuno. Galabino invece ha fatto tutto dall'inizio. Sono tre partite in cui dobbiamo, a partire da domani, dare il meglio di noi stessi, perché affrontiamo una squadra che ha ancora ambizione per la diretta, anche se con la vittoria del Lecce sono diminuite in percentuale, però il Palermo è una squadra costruita per vincere, una squadra forte, quindi dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile, perché soprattutto davanti hanno giocatori che veramente in questa categoria fanno la differenza. Ci sono ancora altri confronti diretti, come quello di domani tra il Perugia e il Cittadella, l'ultima, adesso che si è inserita la Cremonese, c'è un Perugia-Cremonese, per cui ci sono tanti intrecci che è difficile fare in questo momento una tabella, dove si può arrivare, non lo so adesso. A prescindere da quello che è il cammino delle due pretendenti della Serie A diretta, per noi fare il risultato e fare prestazione è fondamentale, perché è importantissimo, alla luce poi della partita che hai in casa all'ultima di campionato, di slancio, con l'entusiasmo si può fare bene anche sabato, quindi è un viatico importante per iniziare questo rincorso, di queste tre partite, a un obiettivo che siamo lì e dobbiamo cercare di arrivarci, quindi a prescindere da quello che sarà il cammino degli altri, per noi è fondamentale cercare di fare il massimo per portare a casa un risultato positivo.